Da questa mattina oltre 120 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania stanno eseguendo nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine un'ordinanza concernente 26 indagati con cui il GIP del Tribunale di Catania su richiesta alla Procura e della DDA ha disposto misure cautelari personali e reali nei confronti di 15 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere di stampo mafioso nonché per le condotte aggravate dal metodo mafioso di usura, estorsione, traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro nella forma e nel rimpiego di proventi illeciti in attività economiche. Il provvedimento dispone anche il sequestro finalizzato alla confisca di nuove attività commerciali a Catania e operanti nel settore dell'edilizia di 81 tra fabbricate e terreni in provincia di Catania, Arezzo di 5 autovetture nella disponibilità finanziaria per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro. L'indagine ha preso avvio da una conversazione di alcuni soggetti ritenuti contigui al clan Cappello che discutevano delle dinamiche criminali del gruppo di Picarello. Una delle attività più redditizie del suo delizio sarebbe stata l'erogazione di prestiti a tassi usurai. Dalle indagini sarebbero inoltre emerse l'esistenza di una cassa comune del suo delizio in cui far confluire i proventi delle attività illecite e da cui attingere per supportare economicamente gli affiliati detenuti o ex detenuti da poco usciti dal carcere. Grazie 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 Grazie